Buongiorno a tutti e benvenuti, io sono Luca Dondoni, quest'oggi sarò la persona che farà un po' da ponte, vi aiuterà a conoscere meglio questo sessantesimo Salone delle Mobile di Milano che evidentemente arriva dopo un periodo che non sono anche qua a ricordare perché tutti ci siamo passati e tutti lo stiamo ricordando molto bene. Un sessantesimo Salone che ha tanto da dirvi e ha tanto da ricordare per quanto riguarda le manifestazioni e quello che accadrà nei giorni che vanno dal 7 al 12 giugno 2022. Una cosa molto importante da sottolineare è che oltre a voi che siete qui in presenza sono collegati in streaming da tutto il mondo per cui veramente ci stanno seguendo in tantissime e infatti saluto Hi to everyone, lo dico in inglese, to everybody is just connected with us via streaming. Thank you very much indeed. In questo momento io vorrei però con me subito e naturalmente l'occasione è giusta perché mi sembra giusto anche farlo, invitare sul palco con me il presidente del Salone del Mobile, Maria Porro. Buonasera, buongiorno, buongiorno a tutti. L'emozione si tradisce con le parole. Abbiamo detto Maria che siamo veramente in presenza non solo di tantissima gente qui e ci fa piacere poterla rivedere in presenza ma soprattutto io mi rubo un secondo per chiedere un applauso a tutti quanti voi per quella che è un'opera che si è venuta a creare all'interno. Questo è un teatro lirico rinato dopo 22 anni. Uno dei teatri più importanti di questa città, un teatro che come sapete è intitolato a Giorgio Gaber che qui ha tenuto tantissimi spettacoli ed è un teatro che ci rivede presenti e soprattutto vivi nel raccontare un evento molto importante. Allora Maria parliamo di Salone, un salone importante per tantissimi motivi. Sì, è un salone molto importante, la sessantesima edizione del Salone del Mobile e il fatto di essere qui oggi in questo teatro aggiunge significato a quello che faremo a giugno. Ma penso sia importante prima di cominciare a parlare di quello che sarà la sessantesima edizione del Salone ricordare da dove veniamo e dove siamo oggi. Veniamo da due anni molto difficili di pandemia in cui il Salone del Mobile è riuscito nel mese di settembre a organizzare un grande evento in presenza, Super Salone, e di farlo grazie a uno sforzo collettivo, uno sforzo collettivo di tutte le aziende che hanno partecipato ma anche delle istituzioni che hanno collaborato a questo incredibile evento. E quindi mi permetto di ricordare il Ministero degli Esteri, mi permetto di ricordare ICE con il direttore Luongo, mi permetto anche di ricordare il ruolo della regione Lombardia, abbiamo qui presente l'assessore Bolognini in rappresentanza del governatore, il ruolo importantissimo, chiave della città di Milano, grazie al sindaco Beppe Sala che è qui con noi, che ha acceso un'intera città. Insomma è stato davvero uno sforzo corale con un architetto di eccezione, Stefano Boeri, che con noi fianco a fianco al Salone del Mobile di Milano, a tutte le persone che lavorano all'interno del Salone con grande anche lungimiranza ha fatto questo passo in avanti. Quindi veniamo da due anni, da un mancato Salone, da un super Salone, dalla grande voglia di celebrare questa, sessantesima edizione, ma non possiamo non considerare quello che sta accadendo ai confini dell'Europa, siamo tutti sconvolti, scioccati dalla guerra in Ucraina. Il Salone del Mobile è un crocevia di cultura, è una grande piazza, è un costruttore di ponti e pensiamo che in questo momento mettere al centro il lavoro, il lavoro delle aziende, il lavoro di tante persone che nel Salone del Mobile creano valore sia ancora più importante. Allo stesso tempo ci rendiamo conto della tragedia umanitaria che questa guerra sta causando e per questo vogliamo dare il nostro contributo e Federlegno Arredo insieme al Salone del Mobile tramite Federlegno Arredo Eventi ha deciso di fare una donazione al World Food Program Italia e quindi poi al World Food Program International che è l'agenzia ONU, premio Nobel per la pace, in questo momento attivo in prima linea ed è una delle più grandi organizzazioni umanitarie, anche coinvolgendo poi tutte le aziende del design che contribuiranno a questa causa. Non poteva che essere così, tra l'altro hai citato, Presidente, un evento molto importante e io c'ero, c'erano sicuramente molti di voi che sono qui quest'oggi e parlo del Supersalone dell'anno scorso, ci ha fatto piacere in sede di riunioni pre-conferenza stampa di quest'oggi ricordare che da un lato con orgoglio Milano orgogliosamente è stata felice di sentire più gente che si è dispiaciuta perché non c'è stata lo scorso del Salone, di quella che invece giustamente diceva ma magari ci vado, alla fine è successo qualcosa di magico, questo è il caso di dirlo e anche in un'occasione come quella dell'anno scorso Milano è stata la migliore vetrina possibile per questo settore. Io inviterei a questo punto il Sindaco Giuseppe Sala. Grazie, buongiorno. Sindaco, benvenuto, purtroppo abbiamo questa distanza da mantenere per le ragioni che sappiamo le streggere volentieri la mano. Allora, abbiamo parlato pochi istanti fa di questo Supersalone 2021 ma di un salone 7-12 giugno 2022. Io vorrei però iniziare ringraziando tutti voi, tutti loro perché quello che noi stiamo facendo è un gesto di grande responsabilità. Essere qui, crederci. Tutte le volte che mi trovo in situazione del genere anche stamattina, pensavo le parole da dire perché devi avere delle parole. Le prime parole che ti vengono sono sempre una ripartenza, finalmente ripartiamo. In realtà noi dobbiamo adattarci a una situazione difficile, a un momento storico sfortunato. È così. Quindi io veramente inviterei un po' tutti a andare un po' al di là dell'idea che si riparte. È un momento così, ma c'è vita e c'è modo di esprimere quello che siamo. Per cui, prima di tutto, io vorrei ringraziare tutti voi perché, ripeto, considero un atteggiamento molto responsabile il fatto di essere qui, di voler far bene questo sessantesimo salone, di voler supportare la nostra città ed è assolutamente necessario farlo. Milano è una città laboriosa e creativa e credo che possa essere anche un po' spiegare quello che io penso debba essere il nostro paese e anche la nostra vecchia Europa. È chiaro che il mondo lo stiamo vedendo, adesso siamo tutti toccati dal tema della guerra in Ucraina, ma il mondo ormai si sta dividendo tra vecchie democrazie, magari un po' faraginose, a volte un po' stanche, e autoritarismi che tagliano molte curve, che semplificano le cose. E ciò dà loro un vantaggio competitivo a volte, perché quando sulle regole vai di corsa e non hai, come noi, elegare ricorsi e tre livelli di giustizia, può sembrare più facile. Però poi torni nel nostro paese e ti rendi conto della fortuna di essere italiano e europeo. Ora noi dobbiamo opporre a questo tagliare le curve, però la capacità di innovare e di creare nuove prospettive. Cioè nel 2050, perché il nostro paese, perché il nostro continente siano ancora leader mondiali, dobbiamo fare delle cose, dobbiamo credere che abbiamo delle qualità, delle capacità, delle capacità appunto nella creatività, ma nella tecnologia, nella gestione dei servizi per i cittadini, nel welfare, ancora nell'industria che altri non hanno. Non è tutto oro quello che c'è intorno, non è che se poi guardiamo quello che c'è in Russia, in Cina, in Medio Oriente, sia tutto oro. Hanno dei vantaggi, ma noi abbiamo qualità che sono così rilevanti, che se siamo in grado di investirci, di cambiare, un po' di velocizzare, un po' di trovare nuove energie, potremmo sperare di avere un futuro come è stato il passato, e il nostro è stato un passato straordinario. Quindi qui c'è tutto ciò. C'è questa idea appunto del coraggio imprenditoriale, della laboriosità, della creatività, della voglia di raccogliere le sfide, ed è per questo che io veramente vi voglio ringraziare. Ma ringraziandovi, voglio anche promettere che da Milano noi faremo, dall'amministrazione comunale, tutto il possibile, perché guardate Milano è ancora una città molto più di quanto noi pensiamo ammirata e attrattiva nel mondo. Andate in giro per le strade, tutti ci andiamo, ma quante lingue straniere continuate a sentire parlare? E non sono turisti magari, è gente che vive qua. C'è questo mix di culture, di capacità, di esperienze che anima la nostra città. Questa quantità di giovani che li vedete in giro, li vedete ancora comunque meno stanchi di noi e con più sorriso, sono tutto ciò che ci farà vincere. Ma il Salone è il momento, questa settimana è la settimana più importante dell'anno. Dove sempre state, secondo me lo sarà sempre. E sarà il momento in cui noi ritroveremo coraggio, fiducia, ci guarderemo con più serenità gli uni gli altri. Per cui continuiamo a fare del nostro meglio e il vostro sindaco, con il limite delle sue capacità, ci sarà sempre per voi. Grazie. Grazie, la faccio accomodare, la ringrazio per le sue parole, però chiamo qui l'assessore allo sviluppo città metropolitana Stefano Bolognini. Grazie, assessore. Sindaco, ho detto una cosa importantissima, Milano, vetrina d'Italia, il Salone del Mobile è vetrina ancora di più. Nel mondo. Nel mondo. Eccoci qua. Benvenuto, assessore Bolognini. Grazie, buongiorno a tutti. Prego, buongiorno. Non c'è una domanda. E allora, intanto grazie a tutti, riprendendo le parole del sindaco, l'intervento mi ha molto suggezionato, perché poi c'è una tipicità che è lombarda, che è milanese, che non è ancora del tutto italiana, che è quello di rimboccarsi le maniche anche nei momenti di difficoltà e saper guardare avanti. In questi mesi l'abbiamo saputo fare, l'ha saputo fare il Comune, l'ha saputo fare la Regione, non sempre l'ha saputo fare il Governo. E io ho in mente tante riunioni, tanti incontri che con Federlegio ci siamo trovati in Regione nei mesi scorsi per cercare di capire se come si poteva ripartire in Italia all'estero. Un lavoro spesso dietro le quinte che però ha permesso a tanti imprenditori, a tante aziende comunque di guardare con fiducia al futuro quando ne ha il contatto. E questo è un po' il suono del mobile. Noi l'abbiamo ipotizzato, l'ha detto il sindaco, come un momento magari anche di riflessione in un contesto che non è di facile lettura. Peraltro dicevo prima al Presidente di Federlegio che il 7 giugno è anche il mio compleanno, quindi quest'anno diventa anche difficile dimenticarlo. Però se pensiamo al Supersonale dell'anno scorso, la festa latennale, gli eventi, è stato un momento di ripartenza, di fiducia, di speranza per il Paese, di grande profondità, che qui mette a fattore comune tutta una serie di caratteristiche e di sistemi che il nostro territorio ha. Il pubblico, il Comune, la Regione e la Città metropolitana, il privato, il sistema fioristico che in questi mesi ha continuato a fare e continuerà a fare un lavoro straordinario. Nel 2019 l'indotto della fiera è stato di 8 miliardi. Il 2,2% del PIL della Regione lo si deve alla fiera, lo si deve al sistema fioristico, lo si deve alle imprese, alle aziende che hanno lavorato in fiera e per la fiera, che hanno saputo dare al nostro Paese, al nostro territorio, uno sguardo davvero importante all'intenzializzazione. Alcorroggi il Salone, dal punto di vista del mobile, il design è la prima piattaforma al mondo e di questo dobbiamo fare tesoro. E quindi provo a fare due o tre riflessioni veloci. Il primo, l'importanza delle aziende, del prodotto, del design per Milano, ma soprattutto per il Paese. Ci sono imprenditori, ma ci sono uomini, persone che lavorano nel legno, che lavorano nel design, che lavorano nella manifattura. E per noi è importante investire anche su di loro. Pensiamo anche davvero, nelle parole, sono contento di avere un contrapunto con le parole del Sindaco, perché poi il sentimento è comune, all'importanza della formazione professionale che cerchiamo di rilanciare e che ha bisogno di modelli importanti come quelli del mobile, del salone, per dare anche una prospettiva diversa a tanti giovani che lì possono fare davvero una vocazione, anche in prospettiva per il futuro assolutamente attuale. La settimana, Milano è la città delle settimane. Lo si deve sicuramente a una tipicità milanese, a una voglia di fare, a un attivismo. Anche a guardare al futuro, come lo è al suono del mobile, ma lo si deve a due fattori. E qui forse la politica, per assurdo, ha un passo indietro. Al mobile, che è stata la prima settimana, piace o no, poi sono arrivate tutte le altre. E quindi ci auguriamo che anche quest'anno possa essere anticipatrice di qualche tendenza rinnovata. E poi alla fiera, che piace o no è lo snodo di tutte queste iniziative. Ed è proprio il sistema Lombardo, dove c'è il pubblico, ma c'è un privato molto, molto forte. E qui concludo ringraziando tutti gli imprenditori che l'anno scorso e quest'anno hanno avuto anche attraverso Federlegno il coraggio di venire in fiera. In un momento in cui, forse posso dirlo io, i fatturati di alcune aziende crescevano anche non andando in fiera, una riflessione va fatta congiunta, mano nella mano, che se oggi il mobile è quello che è, lo si deve a tanti imprenditori e a tante aziende che negli anni hanno creduto nel mobile, e viceversa. Ma se vogliamo che il mobile continui a essere quello che è per noi, per il Paese e per il mondo, ci deve essere il mobile, ma ci deve essere anche la capacità, il coraggio e l'ongimiranza di capire quale è l'importanza di essere presenti a Milano, con tutto quel sistema che prima è stato richiamato e verrà richiamato anche dopo, per evitare che magari in futuro non ci siano altri saloni e Milano possa perdere invece questa eccellenza. Quindi davvero teniamoci per mano, superiamo insieme quest'anno, che comunque sarà caotico e magmatico, e ripartiamo con lo slancio che sempre anche il mobile non è una vetrina, è un anticipatore di tendenze. Io penso che quest'anno lo sarà ancora di più, sono anche cambiati gli stili di vita rispetto al Covid, e dobbiamo fare tutti insieme un grande sforzo perché possa essere anche nel 2022, nel 2023, per i prossimi 160 anni. Quindi davvero grazie e in bocca al lupo, mi avete fatto un bel regalo perché il 7 giugno è il mio compleanno, ma speriamo di averne ancora tanti negli anni futuri. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei. No, bella, devo dire bella questa immagine dell'assessore che parla di una settimana, quella del mobile come della prima e della più importante, perché fa subito pensare, guardando alle tante settimane, sindaco, a una piramide. Tutte le varie settimane sono una piramide, ma la cuspide, quella che sta in alto è il mobile, e da lì veramente si costruisce una piramide enorme. Io ho tante domande, parecchie domande, qualcuna cercherò chiaramente di abbreviarla per il Presidente. Numeri, format, versatilità, parliamo di questo Salone 2022. Sì, l'assessore mi ha rubato il prossimo ringraziamento, che è quello a Fondazione Fiera Milano, abbiamo qui il Presidente Enrico Pazzali, a Fiera Milano con l'amministratore Luca Palermo, che sono le persone che a settembre, fianco a fianco con il Salone del Mobile, hanno permesso la realizzazione di Super Salone e che anche in questi mesi hanno lavorato fianco a fianco con la struttura del Salone per permettere lo spostamento di data. Sapete, era previsto ad aprile, invece abbiamo deciso insieme alla Fiera di riposizionarci su giugno per avere una maggiore sicurezza e un maggiore riscontro da parte del pubblico internazionale, quindi un grazie importante va sicuramente alla Fiera che è stata in grado, così come il Salone, di aprire nuove strade in momenti in cui nessuno pensava fosse possibile farlo, quindi vi devo dire grazie. E parliamo del format. Questo che vediamo appunto è proprio... Vediamo alle nostre spalle la fiera. La sessantesima edizione del Salone torna ad occupare l'intero polo fieristico, lo fa nell'anno delle due biennali Eurocucina e FTK Technology for the Kitchen insieme alla biennale del bagno, lo fa riconfermando appunto l'impostazione con la presenza di 1200 marchi, più di 1200 marchi e brand, espositori e quasi 200.000 metri quadrati di occupazione. Come vedete dal layout abbiamo deciso anche di posizionare il Salone Satellite all'inizio, proprio per dargli ancora maggior rilievo e poi ne parleremo di quella che è un po' una perla del Salone del Mobile. Ci aspettiamo dei visitatori di grande qualità perché abbiamo visto a settembre, e ce lo riconfermano i nostri corrispondenti del mondo, che c'è una grandissima voglia di scoprire quelle che sono le novità di prodotto, di scoprire quelle che sono le idee portate avanti dai vari espositori, anche perché, ricordiamolo, sono due anni che una fiera non avviene in presenza, un Salone del Mobile non avviene in presenza, e quindi c'è questa grandissima voglia di tornare a camminare all'interno della fiera. E questo è quello che vediamo, è quello che vedremo e su cosa cammineremo. Parliamo della sostenibilità, velocemente con un piccolo schizzo che vi fa subito notare, intanto secondo me è una firma perché ci viene da pensare a un cognome, Cucinella immediatamente, vero Maria? Sì, il settore ha iniziato ormai da tempo un percorso verso la transizione ecologica, le aziende di arredamento e di design da diversi anni investono in sostenibilità. Il Salone con Super Salone aveva lanciato un fortissimo messaggio in questo senso, organizzando un evento che avesse un'impronta ambientale il più bassa possibile. Chiaramente questa sfida, con una fiera così importante come avete visto, con così tanti espositori, è una sfida ancora più complessa. Quindi abbiamo deciso di fare la nostra parte. Come? Dedicando uno spazio importante alla sostenibilità, si parla di 1.400 metri quadri, affidati alla firma dell'architetto Mario Cucinella, che poi ci racconterà il progetto, con l'idea che il Salone possa essere anche un acceleratore di processi in atto. Questo spazio non è semplicemente una mostra, ma è un luogo di incontro, un acceleratore di processi, una fonte di ispirazione per i designer, per gli architetti, per gli stessi imprenditori, che ci aiuterà a fare il punto di dove è il settore e ad accelerare questo processo di cambiamento. Allo stesso tempo abbiamo deciso di condividere con gli espositori, ma soprattutto con gli allestitori, che sono un altro elemento importantissimo per il Salone, delle linee guida, per aiutarli a decidere, a scegliere i materiali più corretti, impostare gli stand secondo principi di sostenibilità. È il primo passo di un percorso sicuramente difficile, che richiede investimenti, ma la cui urgenza, mai come oggi, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo la possibilità di poter rinfrancare, di sottolineare, di let's bold it, come dicono gli inglesi, cioè di mettere in grassetto quello che è una filosofia di questo Salone. Un Salone non più solamente fisico, ma anche digitale. Quando si parla di digitale, evidentemente vengono subito in mente i giovani e il modo in cui i giovani si correlano con la digitalizzazione del loro essere, parte della nostra vita e parte della loro, per cui il satellite ancora di più diventa importante. Assolutamente. E c'è un logo, e c'è un claim. Esatto. Marva Griffith, che saluto e ringrazio, che è qui con noi, e che è l'anima del satellite, aveva deciso ancora due anni fa di dare come titolo al satellite Design for our future self and sustainability. Ed è un messaggio importantissimo a chi oggi si affaccia al mondo del design, cioè l'idea di non disegnare per oggi, ma di disegnare per il nostro futuro. Per questo abbiamo scelto anche, per quanto riguarda il satellite, di lavorare, Marva ha scelto di lavorare anche sul layout, rendendolo più inclusivo, un layout completamente rinnovato che gioca intorno al concetto di piazza, e quindi a sottolineare il ruolo del salone satellite come momento di incontro tra i giovani designer, tra le start-up e gli imprenditori. E questo è qualcosa che avviene solo a Milano, solo al salone del mobile. L'intera grafica del satellite è studiata per essere leggibile anche in Braille, per essere veramente toccata. Le cromie sono studiate per essere visibili anche dagli ipoviedenti, quindi c'è un'attenzione anche nello studio del format, dei percorsi, del poter fruire questo satellite davvero in modo inclusivo e per tutti. E questo è un messaggio molto forte che abbiamo voluto lanciare proprio dal salone satellite e ringrazio Marva per questa scelta coraggiosa. Nessuno non può essere coinvolto in questo satellite, in questo salone 22. Grazie davvero ancora. Però evidentemente quando si parla di nuove generazioni, se non vogliamo per forza usare la parola giovani, usiamo la parola di gente che vuole cercare di trovarsi una via, un lavoro e un luogo dove poter portare le proprie idee, le idee a volte devono essere aiutate anche con delle sostanze. E allora eccoci a entrare nel mondo della borsa di studio dedicata a Manlio Armellini. Sì. Dov'è Arvida? Ecco. Un applauso a Armida Armellini. Un po' di emozione, non poche. Abbiamo, col consiglio di amministrazione, tutti abbiamo continuato a chiederci come fare a ricordare Manlio Armellini, il suo lavoro. Ed è stato proprio parlando con Armida che abbiamo scartato ogni ipotesi di cose che andassero a impolverarsi, no? E invece fare qualcosa di vivo. E per questo abbiamo deciso, come Salone del Mobile, con Armida, di creare questa borsa di studio per un Master in Furniture Design che coprirà il costo della metà del corso di studi per due studenti, uno italiano e uno straniero. Al Politecnico. Al Politecnico. Una borsa di studio fatta in collaborazione col Politecnico di Milano intitolata Maglio Armellini. E ci sembrava importante ricordarlo anche ricordando la sua grande attenzione per i giovani, sicuramente il suo ruolo fondamentale nel tenere tutti insieme questi grandissimi marchi dell'arredamento e nel rendere il Salone del Mobile un, se non il, l'evento culturale più importante per tutto il settore del Made in Italy, ma di farlo con qualcosa di vivo e quindi la borsa di studio ci è sembrata la cosa migliore. Un uomo che ha avuto una visione. Grazie a David. Un uomo che ha avuto una visione e questa visione la portiamo avanti. Continuiamo parlando di talk, Maria, perché appunto ci sarà modo, anche qui vedi che non ci spostiamo mai da una linea comune che abbiamo segnato fin dall'inizio, è importante parlare, è importante discutere, i talk servono a questo, ce ne saranno. Sì, lo dicevamo all'inizio, il Salone è crocevia di cultura, catalizzatore, momento di incontro. Abbiamo deciso quindi di organizzare tre talk, tre momenti molto concentrati, molto brevi, ma intensi, e di affidare la curatela di questi tre momenti a tre donne curatrici, Maria Cristina Didero in continuità con il lavoro fatto a Super Salone, Chiara Alessi e Beatrice Leanza. I temi che affronteremo con loro saranno da un lato con Chiara Alessi proprio la storia di 60 anni di Salone, con Beatrice Leanza esploreremo le frontiere digitali per il mondo dell'arredamento e con Maria Cristina Didero rifletteremo ancora sul tema della sostenibilità vista dal punto di vista della persona, e quindi del prodotto in relazione alla persona. E-talk saranno in fiera, quindi all'interno dei padiglioni, parlavamo prima del digitale, qui il digitale ci aiuterà tantissimo a trasferire attraverso la nostra piattaforma digitale in streaming questi contenuti e quindi saranno, diciamo, enfatizzati anche dal contributo del digitale. Sì, io qui sono pieno di foglie ma non posso perdermi perché è tutto quanto molto chiaro. No, Maria. E naturalmente la nostra scaletta non può che continuare parlando proprio di un argomento che abbiamo toccato, cioè la creatività, il modo in cui trasferire e raccontare questo Salone. Allora, il fatto che siano 60 anni di Salone non ci poteva passare così davanti come un tram, anzi, il tram è stato ed è sicuramente un modo per cui Emiliano Ponzi si è fatto venire delle bellissime idee. Io lo invito sul palco in questo momento perché evidentemente parliamo di una... Stanno mettendo l'archetto, stiamo perdendo tempo. Sì, magari dico due parole. Ecco. In occasione della sessantesima edizione del Salone abbiamo deciso di affidare la creatività a un illustratore, Emiliano Ponzi, adesso gli diamo il tempo di salire, e di farlo raccontando il rapporto tra la città e il Salone, raccontando l'evoluzione di questa città e l'evoluzione degli stili. Ma non vado oltre perché non voglio rubare le parole al creativo. Ecco qua. Emiliano Ponzi. Buongiorno a tutti. Grazie, Maria. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Pensate, ma tra barba e mascherina al microfono. No, non c'è problema. Allora, Emiliano, già stiamo vedendo, insomma, quello che vediamo alle nostre spalle è parte del tuo lavoro, è il tuo studio, è il modo in cui tu crei, eccetera. Però, la prima domanda che mi viene evidentemente è come si rende sulla carta, sul video, con delle immagini, una... posso usare la parola un oggetto in movimento quale è il Salone, perché il Salone cambia continuamente, ha cambiato in 60 anni, addirittura muta mentre noi lo viviamo, nei giorni nei quali lo viviamo. Assolutamente. Infatti, noi stiamo raccontando tanto del Salone, ma la responsabilità di disegnare i post, i manifesti, è che non vengono raccontati, ma vengono visti e devono subito trasferire, Salone del Mobile Milano 2022, sessantesimo anniversario. quindi io sono stato onorato ovviamente di essere chiamato a, come dire, essere il cantore visivo di questa edizione. Abbiamo realizzato sei manifesti e sempre con delle regole molto importanti. Il 60, proprio per far capire che l'anniversario è sempre presente ed è fondamentale in questa edizione in ogni manifesto. I colori, il rosso, il bianco, il nero, i colori del Salone e Milano, la nostra Milano che ci accoglie e che amiamo e che anche chi non è di Milano come me sente e chiama casa, come credo tanti di noi e tutte le persone che accoglie, come dicevi tu prima Luca, in questa melting pot di lingue, di figure. Quello che dicevi sulla mutazione, l'evoluzione, il darwinismo, quanto è cambiato il Salone dal 61 ad oggi anche in termini di abitare, di vivere, di sentire, di sentire il mondo interno ed esterno. Quindi sei, per raccontare sei momenti specifici e anche la complessità che è aumentata rispetto al mondo che vivevamo nel 61 e poi una sorpresa, insomma, 2.0, la realtà aumentata. Lo studio Alcanois, il studio di Milano, di animatori, insomma, bravissimi, hanno fatto in modo, come avete visto alle mie spalle, che ogni immagine attraverso un QR code verrà animata e succederà qualcosa attorno al numero 60 ma anche con una magia inaspettata. Per cui questo, secondo me, crea un nuovo livello anche di engagement con il pubblico che non è solo vedere un manifesto ma è partecipare. Quindi il tema della partecipazione diventa importante anche in un elemento laterale che può essere quello del manifesto. Maria, vuoi chiedere qualcosa ad Emiliano del perché lo hai chiamato? Perché sei una fan di Emiliano. No, mi dicevi, insomma, dal punto di vista delle immagini. Ma lui, mi permetto, tu hai un punto di vista incredibile perché riesci a raccontare con grandissima poesia la realtà, attraverso anche quasi un surrealismo che poi apre di svelare quello che la realtà nasconde. Vai molto in profondità delle cose e so quanto sia difficile fermare in un disegno qualcosa che è fatto da, diciamo, 1200 brand, 60 anni di storia. È un atto di sintesi in quel senso. È un atto di sintesi. E hai colto molto bene c'è quel realismo magico dove io credo che il ruolo di chi disegna non è solo quello di fare, diciamo, l'artista nelle quattro mura ma è quello di riuscire a trovare uno spazio in un'immagine che fa di proiezione dove ognuno può proiettare qualcosa di sé quindi è un dialogo non è un'immagine chiusa e blindata ma in queste persone che stanno facendo festa su una terrazza piuttosto che nelle immagini che abbiamo visto prima ognuno deve ritrovare una parte di sé quindi noi dobbiamo stare attenti quando creiamo a lasciare uno spazio vuoto io quello che ho ritrovato in ogni una di tutte le immagini che ho visto al di là del fatto che in questa si vede benissimo il Duomo anche nelle altre c'è sempre la firma di Milano che è poi la cosa più importante Milano che ci accoglie grazie Emiliano grazie mille grazie abbiamo prima citato Presidente abbiamo citato Mario Cucinella perché il discorso della sostenibilità non è un qualcosa sul quale passare così magari di fianco sopra o sotto ci dobbiamo andare a sbattere contro ed è importante farlo per cui io chiamerei qui Mario Cucinella a spiegarci proprio la sostenibilità quanto è protagonista in questo salone 2022 ecco qua il tempo di di averlo sul palco penso che l'abbiano già anche microfonato o archettato come si dice in questi casi eccoci qui un applauso per Mario ecco grazie grazie ciao Maria Mario raccontaci tutto questi atomi che si dissolvono e si mettono insieme questo salone che ci vede ti vede protagonista con tanto materiale naturale e poi c'è una frase che hai detto con tre parole una vicino all'altra che devi raccontare e la lanciamo abbiamo scelto questa parola design with nature che credo che rappresenti bene questa idea del salone questa idea di come il design sia strettamente e necessariamente legato alla natura però questa parola sostenibilità è usata molto spesso troppo spesso e dobbiamo però usarla con parsimonia perché non abbiamo un'altra per dire che ci vogliamo occupare di sostenere il pianeta questo lo dico perché i significati delle parole sono importanti quindi dobbiamo lavorare su quello allora la scelta qual è stata è di raccontare attraverso questa installazione un po' della transizione ecologica è una semplificazione però la transizione ecologica spesso è confusa con la transizione tecnologica invece noi dobbiamo lavorare sulla parola ecologia cioè di come la materia potrebbe diventare veramente il nostro punto di riferimento poi sull'housing evolution anche questo è una semplificazione ma abbiamo parlato in questi anni in questi due anni abbiamo tutti parlato del tema della casa come abiteremo tanti si sono fatti tante domande e gli architetti sono stati anche spesso coinvolti in una discussione come vedete la città del futuro la città dei 15 minuti come potremmo riabitare nelle nostre case allora il mondo digitale che entra nella nostra vita ci fa pensare che forse si è rotto quel paradigma in cui una volta la città che in parte è ancora così c'è un posto dove lavoro c'è un posto dove abito c'è un posto dove mi diverto il digitale lo smart working ha messo insieme queste cose ci fa pensare che forse potremmo dire che la casa è la città è anche la città perché in quella casa faremo tante cose diverse che non facevamo prima e l'altro è un'idea sempre legata al filone della materia a quello che abbiamo chiamato la città urban mining la città è una miniera siamo di fronte ad alcuni dati non li voglio dare in maniera drammatica però i dati più recenti ci stanno dicendo che il peso delle cose che abbiamo costruito che abbiamo trasformato è maggiore del tutto il peso dell'organismo vivente del pianeta quindi c'è un problema dove dovremmo cominciare a usare meno materie riusare delle materie ma soprattutto usare delle materie che vengono dalle filiere naturali e su questo nel salone ci sono aziende che hanno dimostrato di saper lavorare con la natura cioè con materiali che non vengono più dal petrolio e questa è la vera transizione noi ci dobbiamo avvicinare all'idea che piano piano abbandoneremo un'era e ne apriremo un'altra e questa altra è il rapporto quello che io chiamo sempre con grande piacere una nuova amicizia con la natura noi dobbiamo ritrovare quell'amicizia che abbiamo perso negli ultimi 200 anni quindi nasce appunto questo tema come punto nella mostra perché questa installazione come dicevi tu Maria è una mostra è un luogo dove incontrarsi e poi vedremo come è stato costruito e quindi nuovi materiali per costruire la nostra vita quindi in parte voi li conoscete però abbiamo di fronte le aziende che fanno pannelli con le squame di pesce con la cellulosa del mango con le cellulosi del bambù utilizzano il cotone le argille cioè tutti quei materiali che in realtà ci riportano a considerare la natura come una vera risorsa e un nuovo rapporto che abbiamo perduto e l'altro tema appunto come vi dicevo prima l'housing evolution la casa e la città e cercheremo di raccontare credo anche attraverso il talk perché in parte saranno anche ospitati in questo spazio come sarà l'evoluzione della casa con tutto quello che sta succedendo e tutto quello che è successo intorno a noi quindi mi sembra anche un messaggio positivo non solo di quello che ci sarà ma di come noi vorremmo cominciare a rimaginare la nostra vita nelle nostre case c'è una cosa che tu hai detto la prima volta che ci siamo incontrati me la ricordo ancora la casa è la cellula di un organismo più complesso se cambiamo quella cellula cambiamo l'organismo questa è una cosa però è un dibattito interessante perché devo dire che al di là del dramma del covid ha posto comunque delle domande che avremmo dovuto farci comunque c'era comunque una domanda sul tavolo di come potevamo rimmaginare vivere nelle nostre città quindi l'idea della casa del quartiere abbiamo questo problema che da una parte vogliamo vivere vicini nei 15 minuti e devo dire che capisco che Parigi lo dica però le nostre città italiane hanno molte già molte sono a 15 minuti quindi noi dobbiamo forse rivederle in termini di tempo ma però da una parte vogliamo vivere vicini vogliamo vivere in prossimità e dall'altra parte il mondo è grande ci piace viaggiare quindi dobbiamo mettere insieme queste due cose immaginandolo che siano tutte e due due situazioni di sostenibilità e quello che dicevamo l'altra volta che forse proprio all'interno del salone o questa attenzione che c'è ai temi dell'ambiente potrebbe aprire questo scenario che mi piacerebbe ne parleremo poi durante il salone che forse questa comunità che si occupa di questi temi e Milano è il centro di questo dibattito sulla sostenibilità si trasformi in una diplomazia green non più soltanto una diplomazia per il petrolio ma una diplomazia che mette insieme persone del mondo che vogliono lavorare su questo tema io credo che su questo potremmo veramente fare un lavoro di accoglienza di mettere insieme queste grandi risorse ci ascoltano da tutto il mondo per cui la parola che hai detto è traducibile in green diplomacy design green diplomacy disegnare una diplomazia verde ci troviamo però in questo nonostante stiamo cercando di uscire da questa globalizzazione che ci ha messo anche in difficoltà però dall'altra parte c'è una cosa globale che tutti noi in tutti i paesi dicevamo prima c'è la Cina gli Stati Uniti il Sud America l'Australia stiamo tutti lavorando sull'idea che dobbiamo migliorare questo rapporto col pianeta quindi c'è qualcosa che ci accomuna forse per la prima volta non è solo un problema di mercato ma è un problema di attenzione alle persone agli uomini e questa è una cosa che stiamo condividendo tutti insieme per arrivare al punto che non voglio tediarvi a lungo diciamo che c'è questa idea di questa installazione che abbiamo chiamato un organismo collettivo e forse la cosa che rappresenta meglio questa idea della sostenibilità è quella forse di costruire una cosa che ci tenga tutti insieme e quindi l'idea di costruire in questo grande spazio perché sono 1400 metri quadri quindi è uno spazio importante un organismo fatto di componenti di elementi che oggi si riuniscono per fare l'installazione e domani si ridividono e diventano un'aula una piccola biblioteca per una scuola una zona per le mostre un piccolo auditorium un bar perché ci sarà identità golosa che lavora con noi ci sarà un piccolo laboratorio quindi questo organismo che oggi si unisce e domani si riapre e torna nei luoghi a dare un messaggio forte che non è solo quello di riciclare ma è quello di riusare quindi usiamo una materia e la rimettiamo in gioco quindi questo è una in questo grande spazio e mi piaceva molto l'idea non soltanto del racconto della sostenibilità perché le informazioni la cosa paradossale di questo momento è che noi tutti siamo coscienti di qual è il problema e siamo ancora più colpevoli del fatto che lo sappiamo quindi adesso è venuto il momento che dobbiamo agire perché sappiamo che c'è un problema e allora mi sembra che il momento così importante del salone che è un punto di incontro come avete già detto in cui la comunità del mondo si ritrova ed è una comunità di pace quella del design è una comunità di pace si ritrova non in una sola mostra ma in un luogo per stare insieme quindi credo che ci fosse questo bisogno di dire stiamo di nuovo tutti insieme e insieme ci sarà una mostra ci saranno dei video ci sarà il modo per discutere per parlare tutto questo ci unisce da questa grande installazione appuntamento al salone Mario Cucinella grazie mille a presto vi invitiamo adesso per entrare in un discorso che riguarda invece proprio il satellite che come abbiamo detto è incubatore e luogo dove accadono delle cose nel salone del mobile di Milano con Cristina Celentino Celestino perdonami Celestino e Sebastian Herkner eccoli qua io vi lascio il posto sì grazie Maria poi torni eccoli qua penso li abbiano già microfonati loro praticamente sono arrivati al salone e dal salone sono esplosi diventando delle firme considerate ormai a livello mondiale quindi evidentemente tanto benvenuti benvenuti naturalmente buongiorno a tutti voi Cristina e Sebastian evidentemente io non posso che chiedervi come è nato tutto ciò perché è nato tutto ciò perché soprattutto vi ha attirati il salone satellite io ho partecipato al salone satellite dieci anni fa quindi nel 2012 ed è stata la mia prima esperienza il mio primo a mettermi alla prova nel campo del design e anche come imprenditrice possiamo dire ho studiato architettura e ho cominciato ad appassionarmi al design studiando gli interni dei grandi architetti quindi il senso di un progetto totale che parte dall'involucro e arriva all'arredo alla maniglia al dettaglio e poi ho continuato ad approfondire il tema del design e del prodotto in maniera molto libera studiandolo senza vincoli guidato un po' dalla mia estetica e dalla mia sensibilità ho cominciato a vorrei raccogliere pezzi di design e a collezionarli proprio per un bisogno che sentivo di sperimentare gli oggetti di provarli di vederli da vicino e da lì poi ho cominciato a frequentare manifatture aziende che si occupavano appunto di trasformare la materia delle lavorazioni e di passare dal design al prodotto e poi è stato fondamentale nella mia decisione di partecipare al Salone Satellite il mio trasferimento a Milano appunto io non sono milanese e lavoravo prima a Firenze poi a Roma per un breve periodo quando mi sono trasferita a Milano sicuramente l'impatto della città del design è stato molto forte io coltivavo questa passione però poi trovarmi qui a vivere tutto il clima del Salone la preparazione di questo evento che occupa la città per mesi e mesi se non per tutto l'anno poi sono appunto venuta in contatto con la realtà del satellite sono stata selezionata da Marva e quindi ho presentato mi sono messa alla prova con molta serietà ma senza aspettative perché appunto ero nuova del design venendo più da un mondo legato all'architettura e ho presentato diversi prodotti realizzati con piccoli artigiani con aziende prodotti realizzati in vetro piuttosto che in ferro materiali compositi Kevlar carbonio è stato un momento bellissimo di confronto con gli altri designer un confronto internazionale all'alberto e anche per Sebastian quindi Sebastian non ha partecipato allo stesso anno però appunto poi ci siamo incrociati diverse volte tramite il link di Marva infatti what about you Sebastian what about your connection with che cosa è successo per te Sebastian al salone perché ovviamente il mondo partecipa anche a questo nostro evento con lo streaming tu sei un esempio assolutamente sono venuto qui al salone 15 o 16 anni fa dopo l'università a Offenbach e mi sono innamorato della città del design di questo evento e poi ho partecipato al salone satellite grazie a Marva Griffin e nel 2009 fino ad aprile per un paio di mesi ho lavorato al mio tavolo e questa è stata la mia presentazione ho partecipato tre volte di fila al salone satellite ormai il prodotto non è più nuovo ormai sono 12 anni che è in giro però ci è voluto un po' di tempo perché lo si portasse al successo per essere in contatto con la stampa con delle società produttrici con l'Italia e questo è molto importante per fare sistema per la comunicazione ora mi piace veramente partecipare al salone satellite e per me è molto interessante vedere la creatività e la cultura del mondo internazionale che partecipa al salone è molto importante sostenere i giovani designer anche se non c'è stato negli ultimi due anni questo salone io penso che hai usato la tua macchina fotografica per produrre le cose nel tuo piccolo appartamento e poi sei venuto qui a Milano così è interessante sì naturalmente per me è stata un'occasione di incontrare altre persone per parlare di sostenibilità rispetto cultura responsabilità e penso che la sostenibilità sociale da parte nostra sta anche nel networking nel fare sistema di incubatore questo è loro sono usciti dalle loro camere di giovani volenterosi ma soprattutto anche di gente che come diceva Cristina non abitava a Milano e pensava alla Milano grande la Milano magari difficile da vivere invece calati in un settore come quello che è quello del salone del mobile che non vive dice Cristina solamente una settimana ma vive per mesi che ti dà modo di incontrare gente di incrociare persone soprattutto incrociare anche idee beh poi a un certo punto si sono anche trovati Sebastiano e Cristina ma in ogni caso hanno trovato delle persone probabilmente come qualcuno fra voi che ha dato modo a loro di sviluppare le loro idee per cui parlare di sostenibilità sì parlare di mobile sì parlare di idee anche ma soprattutto un salone che grazie al satellite e grazie a Marba evidentemente che ne è un po' il motore beh posso dire senza dubbio che permette a dei ragazzi che potrebbero fare un gradino alla volta con velocità di farne due alla volta ed arrivare dove sono arrivati loro per cui continuate a fare degli applausi al salone a venire al salone e fare degli applausi al satellite grazie mille grazie arrivederci accolgo un volto noto un personaggio che a Milano si conosce molto bene e al quale vogliamo tutti molto bene Davide Rampello grazie ma non mi siedo non ti siedi anche perché non hai la tua solita sedia sì va bene allora Davide io con te intanto curatore direttore artistico è il tuo ruolo e ci teniamo a sottolinearlo presente qua al salone c'è un qualcosa che vedremo ha un nome con due parole scatola magica ho portato un piccolo assaggio adesso intanto e poi due parole certo prego all'inizio nessuno pensava che sarebbe stata una rivoluzione voglio dire abbiamo cambiato il modo di comunicare no? comunicare sì è mettere in comune ma la comunicazione non è solo quello che noi diciamo ma il modo in cui noi lo diciamo e lo devi dire con tutte le parole tutto il trasporto che hai anche se non saprei mai se l'hanno capito allora che cos'è la scatola magica grazie è un progetto di messi in scena avete visto quelle parole le parole sono cose le parole sono progetti a loro volta giovani rete impresa Milano e allora abbiamo pensato di affidare la declinazione il racconto di queste parole a diciamo una delle arti che nel racconto è sovrana il cinema immagini musica racconto e abbiamo scelto undici grandi interpreti italiani e li abbiamo messi dentro appunto una scatola una scatola magica ma questa scatola proprio perché è magica non ha solamente questo straordinario racconto e ci tengo a dire che le parole sono di fatto diciamo una scelta editoriale una scelta di progetto del Salone del Mobile perché sono parte costituente della carta dei valori e questo è importantissimo ossia il Salone ha scelto questi concetti questi progetti come fondamento delle proprie linee guida tra l'altro uno delle parole avete visto è Milano perciò Milano come concetto e come stile di vita e come luogo ma proprio per ribadire questo in questa meravigliosa sala che in questo meraviglioso palazzo prima palazzo reale e poi sala che è la sala delle cariatidi diciamo saremo accolti da due grandi altre istituzioni grazie alla sensibilità di James Bremble da appunto dei capolavori dell'Accademia di Brera e grazie che è appunto uno dei riferimenti più alti della vita milanese non solo milanese ma ci ho voluto ci tengo anche a dire che un altro protagonista forse meno noto ma altrettanto poetico è la compagnia marionettistica Colla e saremo accolti appunto da questi due diciamo interpreti e poi essendo una scatola magica evidentemente ci sarà anche una grande sorpresa che non va rivelata prima di lasciarvi però facendo riferimento un po' a tutto quello che è stato detto e soprattutto alle parole iniziali del sindaco che parlava dell'importanza della città una importanza proprio di riferimento mondiale affettiva mentre parlava mi è venuto così spontaneo ricordare un grande innamorato dell'Italia dell'Italia della Venezia di Napoli e soprattutto di Milano William Shakespeare che nell'ultima sua opera La Tempesta il personaggio Prospero che è Duca di Milano dice e finisce con una frase che è veramente straordinaria una frase che è il manifesto dell'uomo nuovo che completa la visione rinascimentale che prelude tutta come posso dire la visione che poi sarà di Galileo di Bacone eccetera eccetera e dice siamo fatti della stessa sostanza dei nostri sogni vuol dire che noi possiamo diventare in base a ciò che sogniamo e siccome il sogno è l'inizio del progetto mi sembra che questo sia veramente l'auspicio più straordinario che si possa dare a questa sessantesima edizione il sogno per poter poi progettare e diventare ciò che noi decidiamo di progettare grazie Davide permettimi Davide permettimi di citare i nomi dei registi prego io non li non mi ricordo a memoria Francesca Archibugi Pappi Corsicato Davide Rampello Vilma Labate Bruno Bozzetto Luca Lucini Claudio Giovannesi Gianni Canova Donato Carrisi Daniele Cipri e Stefano Mordini un eccellente parterre un eccellente parterre grazie a Davide Rampello e a tutti i registi che hanno contribuito a creare questa installazione site specific che nasconde una sorpresa che vivrete quando entrerete in quella scatola magica insieme a questa importante installazione a Palazzo Reale il salone continua nella nella sua collaborazione con una grande istituzione che è il teatro la scala di Milano e lo fa con una serata molto speciale la domenica prima dell'apertura del salone del mobile con due stelle di eccezione bolle che eseguirà un balletto per tutto il pubblico e Lorenzo Viotti che dirigerà l'orchestra filarmonica della scala in questa occasione quindi insomma sarà sicuramente un momento molto due nomi che sono molto emozionante le eccellenze assolute per cui siamo certi che sarà un gran momento e sempre perché il rapporto con la città è qualcosa di importantissimo e di fondamentale prosegue il progetto accoglienza che è un progetto del salone del mobile in collaborazione con Fiera Milano e con il comune di Milano per cui grazie alla collaborazione con le scuole di design e di architettura di Milano noi avremo in diversi punti cardine della città degli studenti che riusciranno a guidare e aiuteranno i tanti visitatori che vengono dall'estero a orientarsi per raggiungere la fiera ma anche per fruire tutte le installazioni e i diversi eventi che saranno presenti in città quindi avremo la nuova accademia all'Istituto Europeo di Design e chiaramente la scuola di design Politecnico di Milano e questi circa 100 studenti che si occuperanno di questa accoglienza del pubblico da tutto il mondo grazie presidente io ti terrei qua sul palco a questo punto perché non possiamo non avere chiamare qui sul palco Claudio Feltrin presidente Federlegno Arredo con il quale chiudiamo questo nostro incontro ed ecco Claudio grazie mi volete mi volete accomodare ci danno magari ecco magari se ci portano anche fece neanche vi lascio poi ritorno dopo mi lascia da solo no no qua 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 eccolo qua eh sì dai ti lascio da solo io faccio faccio come volete voi prego prego sedetemi grazie sto io in piedi questo non era previsto niente dai dai l'imprevisto della direzione è giusto che stia in piedi allora io mi metterò qui alle vostre spalle faccio un po' come Maurizio Costanzo d'altra parte porto chiaramente un esempio che ha insegnato tanto allora domande la prima è per te l'andamento del settore arredamento al momento attuale allora diciamo che è partita già cattiva io vorrei fare un passo indietro perlomeno goderci un minimo quelli che sono stati i risultati del 2021 che sono stati per la nostra filiera dei risultati eccezionali eh più di 49 miliardi con una crescita del 14,3% un export che è aumentato sempre a confronto con il 19 comunque questi dati un export che è portato è salito del 7,1% e l'Italia ha avuto un incremento del 18,5% quindi sono dati che veramente fanno felici perché erano veramente da tempo che perseguivamo e cercavamo di trovare il modo di superare anche quel che è stato appunto il nostro diciamo il covid che ha coinvolto un po' tutti quanti i settori economici a livello mondiale è ovvio siamo contenti appena finito il 21 siamo partiti con un bagaglio anche di preoccupazioni perché comunque nel 2021 si erano già manifestati diciamo delle tensioni molto forti per quanto riguarda sia il costo dell'energia che il reperimento delle materie prime sulle quali gettavano un po' di ombre di preoccupazione per il 22 chiaro che poi l'evento ultimo che siamo tutti partecipi e testimoni di quanto è successo nell'ultimo mese ovviamente questo non fa sì che generare della nuova preoccupazione quindi capire cosa sarà il nostro prossimo futuro ovviamente è un enigma che tutti quanti noi vorremmo aver già risolto ma ci dobbiamo impegnare per trovare la soluzione e la federazione su tutti però in questo momento insomma sono convinto che la Presidente sia d'accordo con me il valore l'esperienza valoriale del essere presente al Salone del Mobile è comunque fortissima per le imprese quindi il valore dell'essere qui c'è il valore è assolutamente un riaffermare una leadership che il Salone del Mobile ha saputo costruire con tutti quanti le aziende che hanno partecipato in questi 60 anni per creare un'eccellenza che tutti ammirano a livello mondiale si conferma essere una piattaforma irrinunciabile una vetrina irrinunciabile tanto più in questo momento che abbiamo una dovere di reagire immediatamente a questa situazione diciamo del tutto imprevista fino a ripeto appunto un mese fa e qual è l'occasione migliore appunto per le aziende che magari hanno un diciamo un rapporto economico molto forte con i paesi colpiti da questi da questi eventi per trovare invece un'alternativa di sbocco proprio attraverso il Salone perché è un'azione immediata rapida che si può riuscire a mettere a frutto ancora meglio rispetto a prima quindi a maggior ragione si deve partecipare e si deve approfittare di questo grande evento che dopo due anni finalmente siamo riusciti a ripartire a fare nella stessa ma diciamo nella tradizione precedente con tutte le innovazioni che sono state presentate che sono veramente foriere di un salone che sarà sicuramente di grande successo tenendo presente comunque un contesto che ovviamente vedremo man mano come si svolgerà terza e ultima domanda ma che è stato come d'altra parte le persone presenti qua e che ci sta ascoltando comunque in streaming ha capito essere un po' diciamo il fil rouge di questo nostro incontro e cioè la sostenibilità di un settore che d'altra parte sta andando sempre di più da questa parte o verso quella parte cioè di riuscire a creare un mondo abitativo sostenibile questo è sicuramente un mantra che tutti noi penso che nessuno possa negare questo nuovo percorso che è stato intrapreso si è sentito qualche diciamo critica o qualche voce dove si diceva adesso con questa situazione ci dovremmo dimenticare della transizione ecologica e quant'altro secondo me assolutamente non è vero anzi è proprio in questi momenti qua che dovremmo impegnarsi ancora di più verso a migliorare quella che è la nostra situazione del consumo delle materie prime visto che tra l'altro scarseggiano e quindi come abbiamo detto prima con costi esorbitanti quindi a maggior ragione ci farà riflettere su questo e accelerare proprio in questa direzione i numeri che abbiamo visto prima citati anche dall'architetto Coccinella fanno capire la dimensione di quante sia la sfida è una grande sfida ma è anche una grandissima opportunità noi sapevamo già come federazione avendo anche pubblicato un decalogo come una specie di roadmap per le nostre aziende che accompagnerà le nostre aziende in questa transizione proprio perché crediamo sia una grandissima opportunità di diciamo innovazione sulle nostre aziende che quindi si preparano per un futuro che appunto deve essere altrettanto radioso quanto è stato quello del passato Alla Presidente Maria Porro darei la parola per chiudere allora questo nostro incontro Maria se vuoi No grazie grazie Claudio per queste parole sicuramente il ruolo del Salone è quello di aprire nuovi mercati aprire nuove strade quindi il nostro impegno come organizzatori di questo evento in collaborazione con il Ministero degli Esteri e tutti gli attori coinvolti Fiera Milano il Comune daremo il massimo per fare in modo che sia ancora una volta un momento di creazione di opportunità e di valore e di valore per tutti quindi volgo anche l'occasione per ringraziare quelli che sono i nostri sponsor che ci sostengono da tanto tempo e che sono anche loro impegnati in prima linea per quanto riguarda la sostenibilità e parlo di Banca Intesa Cadel Bosco Illi Caffè e Acqua San Bernardo quindi anche nella scelta degli sponsor il Salone sottolinea questo impegno a 360 gradi Io non posso altro che dirvi che per quanto riguarda i relatori sono tutti disponibili per interviste lo dico ai colleghi giornalisti all'ingresso dove trovate un backdrop con il logo del Salone del Mobile 2022 l'appuntamento non può che essere dal 7 al 12 maggio 2022 Giugno Giugno ci ruba un mese svengono tutti Giugno è il compleanno dell'assessore non potevo non fare una ghiaccia Ah una cosa importantissima avete visto un render del progetto dell'architetto Mario Cucinella nel foyer trovate anche un modellino quindi potete vedere il progetto in miniatura in anteprima quindi facciamo finta di niente 7 12 giugno 2022 mi dicono di dire che c'è il buffet oltre al modellino c'è anche un buffet se vi può interessare grazie a tutti grazie a voi per essere stati qua grazie a tutti grazie a tutti